Oggi la prima udienza del processo sportivo sulle plusvalenze a carico di 11 club, tra i quali c'è anche il Pescara. In mattinata la requisitoria del procuratore federale Giuseppe Chinè. Queste le richieste della procura. Niente punti di penalizzazione a carico del Pescara, a cui è stato contestato il comma 1 dell'articolo 31 del Codice di Giustizia Sportiva. 125 mila euro di ammenda al club, 12 mesi e 20 giorni di inibizione per il presidente Sebastiani, 7 mesi e 20 giorni per Gabriele Bancoschi e 8 mesi per Roberto Druda. Sono, ribadiamo, le richieste della procura federale. A questo punto si apre il dibattimento. Il processo andrà avanti giovedì e venerdì con sentenze probabilmente subito dopo Pasqua. E giovedì sarà di nuovo campionato, penultima giornata Pescara, di scena a Pistoia, ore 21. Buone notizie per Zauri, che recupera non solo Rauti e Giannes, ma anche Memushai, che stamane si è allenato al pari di Ingrosso. Fuori lo squalificato Derisio e Zappella, causa infortunio alla spalla. Pontisso convive da tempo con un problema al piede, ma stringerà i denti. Delle Monache e a Coverciano con la nazionale Under 17, ma giovedì sarà a disposizione del tecnico Biancazzurro per la partita a punto di Pistoia. C'è il placet della federazione del CT Bernardo Corradi, subito dopo il ragazzo di Cappelle sul Tavo. Probabilmente tornerà a Coverciano per l'amichevole della selezione azzurra in programma venerdì 15 aprile.